Una vittoria di appena 17 voti sul sindaco uscente Alessandro Zocca definita un autentico capolavoro. A San Martino Siccomario le recenti elezioni amministrative hanno premiato il candidato della lista insieme per San Martino Andrea Viola, vittorioso con il 38,5% e con 1.209 voti a fronte dei 1.192 totalizzati da Zocca con San Martino dritti al punto. La soddisfazione di Viola e di aver ottenuto questo difficile risultato con una formazione realmente civica e non soltanto a parole. In Consiglio Comunale potrà contare su 8 seggi mentre San Martino dritti al punto ne avrà 3. La lista di Fratelli d'Italia con Maria Giovanna Prato si è fermata invece al 23,4% e avrà soltanto un posto in Consiglio Comunale. Per quanto riguarda le elezioni è stato un percorso molto interessante che ci ha portato a vincere solo 17 voti ma che se lo analizziamo rispetto a 5 anni fa io l'ho definito un capolavoro nel senso che nel momento in cui si sono presentate due liste era pensabile che come 5 anni fa la lista del sindaco uscente potesse essere favorita nel vincere le elezioni. Così non è stato. Credo che il nostro successo nasca dal nostro essere veramente civici. Noi siamo l'unica lista che non aveva apparentamenti con liste politiche. Una lista totalmente civica ha tenuto a sottolineare il sindaco Viola composta da persone legate al territorio di San Martino, altro aspetto da non trascurare. Una vittoria accompagnata dallo slogan il cambiamento. Sistemati i primi adempimenti burocratici, la nuova amministrazione è già al lavoro su due temi considerati primari, il decoro e il progetto della nuova scuola dell'infanzia. Sì allora il nostro slogan era il cambiamento e il cambiamento forte che abbiamo detto, abbiamo proposto ai cittadini è il cambiamento legato alla gestione del paese, al decoro urbano e stiamo già lavorando pesantemente per riportare il nostro paese a quella bellezza che merita come paese, come città. Sicuramente poi ci sono alcuni temi che erano in corso, in particolare la nuova scuola materna, la scuola di infanzia, che è un progetto importante sul quale puntualmente io mi sono coinvolto.